Doppia iniziativa pasquale per Ant. Da una parte ha promosso la vendita di uova di cioccolato, ancora in corso tra l'altro, per sostenere l'attività dell'associazione. Dall'altra ne ha donate 150 alla mensa alla pira. All'iniziativa, oltre ad aziende e cittadini, ha contribuito anche il Rotary Club Filippo Lippi, in ricordo della past president Tiziana Turi. Questa iniziativa serve appunto per sostenere l'assistenza domiciliare ai malati di cancro, di tumore, che appunto in questo periodo di Pasqua è ancora importante stare vicino. Possiamo offrire appunto agli assistiti della pira anche un gesto così carino per Pasqua, di farli sentire importanti, offrendo appunto un uovo nel loro menù pasquale. I dolci verranno distribuiti il giorno di Pasqua insieme al sacchetto, che continua a sostituire il pranzo. Penso che questo tipo di distribuzione andrà avanti ancora per molto tempo, fino a che non avremo la certezza che questo virus abbia rallentato. I nostri numeri più o meno sono sui 160-170 pasti al giorno, quindi più o meno quelli che davamo anche quando potevano entrare. Quindi queste uova verranno rotte, messe in dei sacchettini e distribuite insieme al pasto quotidiano. Quindi noi domenica mattina o sabato mattina ormai aspettiamo Pasqua. Romperemo le uova.